Ciao a tutti, un benvenuto su PAWebTV, qui è Pietro da Miami, siamo in Palm Beach e alle mie spalle vedete il Bradley Park Hotel è veramente un posto molto molto carino dove soggiornare se siete nei pressi di Palm Beach qui a Miami è molto particolare perché il palazzo è storico, è uno di quei palazzi storici tradizionali degli anni passati e quindi anche all'interno mantiene un design che ricorda un periodo preciso qui a Miami quando si iniziavano a costruire questi edifici in Palm Beach quindi mi raccomando venite venite al Bradley Park Hotel e non mancate, ciao yeah!